Ma cosa è questa piscina, signore? Eh, qua siamo nei quartieri spagnoli. La sera la riempio e la mattina l'ho invagando. Qua non deve sapere niente di nessuno. Ma la verità ti è piaciuto questo show, però. Ah, faccelo un po! Signore, ma che cosa è successo in questo palazzo? Ah, io stavo sul baccone, stavo andando a te, con un certo punto già visto il rombone, che è venuta nella preta, in una vidro. Ah, ma cosa sapete di questa palazzo? Ah, è successo in una cara a braccia. Ma signora, ma che cosa è successo? È successo un bacio a bacio! Come ti è fuggiato? Ma chi sei la ragazza? Eh, per me, il mio figlio era per 70 anni. Il bambino era fra il cuore per il cuore. Ma... Ma cosa avete perso? Eh, ho fatto tutti i soldi miei, come un'altra cosa che è! E vittimino a fare quelle scene! Quello è venuta a fare anche i video! Ciao, sono Marco Moff! Eh, che sei venuto a fare? Eh, io oggi ho fatto l'acqua, come te? Allora, te? Eh, io mi chiamo Marco, però il mio nome d'arte è Marco Moff. Eh, vabbè. Ma...maffè è un bel nome, no? No, no, no. Io mi chiamo Marco Moffè, però il mio nome d'arte è Marco. Ah! Eh, oggi ho fatto l'acqua un po' d'azzo. Gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, un po' d'azzo? Sì! Gelato al cioccolato! Gelato al cioccolato! Gelato al cioccolato! Gelato al cioccolato! No, 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 ma... Poi, sai, a Napoli stiamo facendo dei corsi salari, proprio per imparare l'inglese, perché sai, l'inglese è un po' tonte! Capito? Però...no, io non lo so ancora bene. Eh, vabbè, ma è come a festa, è un piacere, ma... Scusa, poi tu stai perdendo i pantaloni! Perché? Eh? 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 Scusa, questo, questo mi dice no! Io posto la popoletta al cioccolato e questo mi dici di no! No! E mi dici di no! Vabbè saluto la mia cugina, ai cittinò la parrucchiera, a mia cugina, quella del medicolo, no? Napoli! Quella sotto i vortici! L'altra, la mia cugina, la nipotità di mia zia Carolina! Eh, tutti gli altri! Ciao! Ciao!